C'ho una tosse terribile, mi sa, che avendo parlato con una persona che è in preda a strani discorsi ed è in una grossa trappola, anche la mia gola che è una forma di trappola per il cibo e per la saliva, la saliva è andata di traverso ed è un simbolo potente di chi è inceppato fra il desiderabile e il temibile. Beh, noi vorremmo occuparci del team che vogliamo mettere in piedi, è composto da mia figlia, da me e della Chiara Massanti, la quale essendo un ottimo soggetto ipnotico, può effettivamente dare qualche idea precisa alla mente umana dei pazienti di come tutto quest'orgono funziona e di come uscire da queste trappole tenendo conto non più di ciò che è bene e di ciò che è male, ma in modo prioritario di quello che questa macchina può fare o non fare. Se in effetti usiamo, come in tutta la psicologia, questa macchina qui in modo acritico, dando per scontato che può vedere, che può guardare, che si può difendere vedendo correttamente o meno, oppure con la volontà possiamo ottenere e realizzare ogni desiderio, queste due cose che sono tutte due errate che non tengono conto dei limiti e delle potenzialità di quest'organo e possono tenerci nel guado a soffrire una vita intera. E nelle relazioni soprattutto affettive il disastro è enorme, anche perché nelle relazioni affettive quest'organo insieme al corpo valuta ciò che è bene, ciò che è male per essere felici e vuole rendere permanente ciò che il corpo nelle relazioni affettive ha insieme alla mente hanno detto che è un bene per me per essere felici. Se a quel punto la parte umana di noi che è capace di riflettere sul funzionamento di tutto quest'organo non è riuscito a capire quali sono le trappole, le psicotrappole in cui si può andare a infilare, soprattutto in amore quando si è dato un valore enorme a una persona alla quale quella persona è come noi, per cui sappiamo che muta, che può cambiare, mentre noi per essere felici abbiamo bisogno di un qualcosa di stabile che per manca, così com'è, abbiamo provato un grande piacere a colmare un bisogno e lo vorremmo stabile. Niente di male in quest'idea, se eravamo conoscenti, stavamo benissimo a volere questo, non lo siamo, ecco comincia qui la psicologia critica o il modello critico della psicologia che io vi propongo per uscire dalla psicotrappole affettive. infatti stiamo mettendo in piedi questo team, stiamo in un momento i primi passi, ma i primi passi semplicemente per divulgarlo, fra poco uscirà il sito amorepsico.com o net, non lo so, ma lo diremo con maggiore precisione in seguito e con cui potete contattarci, vederci, incontrarci e stiamo anche pensando soprattutto nella fase dove seguiamo le persone a incontrarsi o a rafforzare e a capirsi nell'incontro per saper scegliere in modo oculato dove vogliamo fare qualcosa, rimettere in piedi una cosa che ho fatto già da 40 anni, cioè un vecchio questionario basato su 40 domande dove vale il discorso conoscere e riconoscere e questo questionario va a toccare, chiamiamolo con un termine moderno, le app che si formano nella fase della gestione, cioè quando noi siamo nella pancia della mamma, cioè questo è il nostro organo fatto, quando siamo adulti fatto di 100 miliardi di cellule, quando siamo piccini è fatto di cellule non proprio 100 miliardi molto meno, ma comunque la funzione è sempre la stessa, queste cellule qui sono in contatto con tutte le cellule del corpo, nel nostro corpo ci sono degli ammassi cellulari che sono i nostri organi, che hanno una finalità, una modalità di azione e una finalità, la finalità è mantenere in piedi tutta la baracca, tutto l'individuo con tutti i suoi organi, ebbene ci sono 12 organi, questi 12 organi sono come i 12 dei di Platone, il quale diceva che quando l'anima prima di incarnarsi doveva fare, era guidata da due cavalli, uno bianco e uno nero, e l'origa era l'anima che guidava questo cocchio, e lo guidava dietro la scia degli dèi. Ora, dato che aveva due cavalli questo cocchio, a volte il cavallo nero prendeva prevalenza, riusciva a vincere la forza direzionale dell'origa, e quindi ci soffermava di più o di meno appresso a un dio, e acquisiva le caratteristiche di quel dio, per cui quando si usciva dalla pancia della mamma, questo viaggio intrauterino appresso agli dèi, era come un viaggio che ci preformava la vita, usando un termine moderno possiamo dire che questi 12 dei corrisponderebbero a 12 app, cioè 12 applicazioni funzionali che ci aiutano a vivere, conoscere o riconoscere? Beh, queste 40 domande in effetti consentono di fare proprio un'operazione su questo, individuare i vari organi o i vari dèi che nel viaggio intrauterino hanno avuto più domestichezza con l'origa, o hanno costretto l'origa a soffermarsi di più o di meno appresso alle caratteristiche di un dio o alle caratteristiche, perché è funzionato di più un apparato, per esempio l'apparato digestivo, l'organo della digestione o l'organo della cistifelle o l'organo del fegato o altri organi vari, il cuore per esempio. E allora quando si esce dalla pancia della madre noi abbiamo già, non siamo tavola rasa, questo non vuol dire che non ci modifichiamo lungo la via, nella vita, possiamo uscire in un modo, ma le esperienze della vita ci costringono a usare le altre app, perché l'origa con questi due benedetti cavalli va appresso a tutti gli dèi, si sofferma di più o di meno in base alla bizzarria del cavallo nero, però va appresso a tutti gli dèi, quindi acquisisce bene o male le caratteristiche di tutti e dodici, i nostri organi fondamentali. Ogni organo quindi ha una funzione e una finalità, quindi quando usciamo abbiamo delle applicazioni, come se fossero compiute, operative e particolari. Nel fare questo questionario di 40 domande, ormai sono 40 anni che le ho fatte, ho notato che in base ai risultati di questo questionario noi possiamo individuare se due persone che si sono incontrate effettivamente sono compatibili, sono complementari, oppure sono talmente uguali che alla fine vanno in conflitto fra di loro, se sono complementari oppure sono talmente uguali da andare per forza di cose in conflitto. questo, questo percorso, questo capire queste cose, in effetti cogliere questi, queste strutture basate sui nostri organi, sulle caratteristiche dei nostri organi, in fondo la vita ci ha fatti maschi e femmini, cioè ha fatto due esseri per farne uno, ci sarà un fine, come questi due esseri per farne uno, dovranno avere delle app complementari per stare insieme tranquillamente, sì, e noi andremo a trovare queste app complementari in base alle quali diciamo voi potete stare tranquillamente bene insieme il vostro percorso non sarà troppo tempestoso, oppure se è tempestoso l'intervento terapeutico, le indicazioni faranno sì di poter cambiare l'app, in modo che due persone che stranamente si sentano attratte e vogliono stare comunque insieme, sia per testartaggine, sia per altro, possono andare a stimolare quelle app complementari in modo che possano proseguire il loro cammino insieme. Alcuni naturalmente si trovano insieme e poi si perdono proprio perché le app si modificano, le vicende della vita, ciò che la mente umana, e qui la mente umana può creare, la famosa origa, può creare dei problemi anche fuori dalla pancia della mamma. la mente umana dà valore a determinate cose e dirige questa benedetta amica, questi due cavalli, ad andare presso a un'app piuttosto che presso a un'altra in base a quello che l'aurica pensa che sia bene per stare insieme. E ultimamente noi, l'aurica. I problemi sono più nell'aurica che nei cavalli, ultimamente, perché nell'epoca moderna l'aurica ha delle idee che riguardano sia la sessualità, sia lo stare insieme, che non stanno proprio né in cielo né in terra. che sono contro ogni via naturale dello stare insieme, ogni finalità naturale dello stare insieme. Ecco, noi cercheremo di fare questo tipo di operazione, cercheremo di guardare la complementarietà naturale fra due persone, e cercheremo di suggerire all'aurica di non fare l'errore più grosso che un'aurica può fare. Quello di ragionare in base a ciò che dovrebbe essere, cioè di essere illuminista, a ciò che dovrebbe essere una coppia, come dovrebbe essere il rapporto, anziché dare a ragionare con ciò che il rapporto stesso dà. Amo una persona che è fatta così, mi accorgo che non è proprio adatta a me, non posso. Molti dicono che l'altra si deve adattare a me perché quello è la vita. Il rapporto normale fra due persone è che una debba fare questo piuttosto che quest'altro. Ecco, quando un'aurica ragiona così, beh, è un vero problema. Può scombussolare tutte le app naturali che questi due, che si sono incontrati, avevano, e creare un disastro quando in realtà la vita li aveva fatti incontrare, forse erano fatti l'uno per l'altro. Beh, cercheremo, non fatemela fare lunga, cercheremo di dare delle risposte a tutte queste domande, cercheremo di scoprire le app, cercheremo, in base a questo, cercheremo di rapportarci con due persone che hanno difficoltà, che forse si sono trovati facilmente e naturalmente, ma che poi hanno trovato e trovano difficoltà a proseguire, a stare insieme, semplicemente perché l'aurica dell'uno o l'aurica dell'altro non si occupa troppo di seguire i vari dei, le varie app, o di lasciarsi guidare un po' dalle caratteristiche complementari, delle app complementari, ma ha un'idea, chiamiamola con una parolaccia, tirannica, di come dovrebbe essere il mondo, di come dovrebbe essere la relazione, ed è proprio quest'idea terribile di come deve essere la relazione che crea un sacco di problemi fra di noi ultimamente. Buongiorno.